Lascio traccia di quello che faccio, così il sindaco del comune di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri, sui primi tre mesi di amministrazione della città dei Templi. La conferenza stampa, dove sarà mostrato alla cittadinanza l'operato svolto, è prevista per il prossimo 12 settembre. Per l'occasione sarà presentato anche un opuscolo contenente il lavoro dei primi tre mesi di amministrazione. Vorrò fare un resoconto di questi 100 giorni. L'unica cosa che non ho fatto è che non ho nominato l'addetto Stamo. Non c'è stato rumore sulle tante decisioni che ho assunto in questi tre mesi di amministrazione. Sono tantissime, tante decisioni, tanti iniziativi, tanti procedimenti che hanno avuto inizio e tante soluzioni a tanti problemi. E quindi io presenterò questi primi 100 giorni di lavoro, di impegno, con una conferenza stampa e con un documento, come io amo fare, perché io lascio traccia di quello che faccio. E le pubbliche amministrazioni parlano attraverso gli atti. Quindi ci sono delle cose importanti, come per esempio la ripresa e la soluzione dei problemi della piscina, che si concluderanno il 30 settembre. La ripresa dei lavori al polo scolastico, la costituzione del subambito per i rifiuti, l'entrata di Capaccio Pestum nell'Unione dei Comuni, lo studio di fattibilità della fascia costiera, il nuovo piano triennale delle opere pubbliche, tutta una serie di iniziative e di decisioni assunte che avviano l'ambizioso programma elettorale di cui ho parlato e sul quale la città di Capaccio Pestum ha espresso la fiducia nei miei confronti.